Questa non è un po' particolare per entrare a piede, vero? Mi faceva strano andare per scuola e poter giocare e fracciare i miei amici, affacciarmi per destra e sentire il silenzio. Ci sono state cose positive però che abbiamo imparato dalla natura. Lei, nonostante tutto, quando ci siamo fermati, passa per volta e è andata avanti. Gli animali, un po' confusi e curiosa per la nostra esperienza, sono curati nelle grandi città vuote, giunte per loro. I delfini sono tornati a ripopolare i nostri animali, a ruotare nelle acque dei porti. In questo momento di difficoltà, a giovanissima non ci siamo mai fermati, continuando giorno dopo giorno a prenderci cura dei nostri amici animali attraverso la condizione e la competenza del nostro Stato. Oggi insieme a voi vogliamo mangiare queste sferme di natura. Pronti! 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 Questo è il nostro gruppo di rifiuti, appartenenti alla spazio Turzum Truncatus. E i polizioni sono cetacei, proprio perché le padevi ridano le morte e i morti dolci. I cetacei derivano da un amico di potenza. Il ritorno, dopo milioni di anni di rischio, ha raggiunto una forma perfettamente determinata. Ha capito? I cetacei derivano da una mano sulla destra. La stessa è una piccola ossa del nostro braccio e della nostra macchina. Cosa è la busta? Non, 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 non. Basta! Basta! E' possibile distinguere il maschio dal fumo guardando le pescoli del sangue superiore. E' solo bene il stampo di massio e molto l'avvicinato alla pietra. E noi, ossia la pietra. Dov'è il filtro? Sì! I pesci sono animali agili e veloci che possono raggiungerlo con dei 20 setti lunghi orari. Anche se la loro velocità di successo è decisiva dove ci sono. A differenza di pesci, muotano muovendo la robina padale dall'alto verso il basso. Stammizzano Ehi Poi Molnie Sperante Ben vestirati, i delfini utilizzano uno schiavratore che porta l'apice della testa e che corrisponde alle nostre narizie. Si prega il gentile pubblico di fare silenzio. Forse non tutti sanno che i cetaggi emettono suolo fuori dentro l'acqua dallo schiavratore e non dalla bocca. Sapete come comunico che definito gli addestratori? Il rispoggio utilizzato tra di loro è basato sul rispoggio corporeo e da ogni segnale corrisponde e specifico comportamento. E invece tra loro, oltre a utilizzare questo linguaggio, hanno attestrati e definiti ad associare la figura geometrica e il comportamento. Le figure utilizzate sono sempre più associata per raggiungere se stesso. Quando la coda è stata accattata con lo spoggio lo salto. Triangolo e qui va, saluto con la coda. Siete pronti a guidare la sorter? Vediamo il comportamento che faranno vedere i nostri amici. Facciamo girare la nuova. Grazie! Grazie! bees! Grazie. 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 La parteятura è una storia che a volte il gruppo cerca restarci alle tipologieなら's turni per esempio mantenendoli in superficie per mettere la respirazione Grazie. 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 Noi rimani! Vedete che cosa succede con l'idea di qualche mascherine che non vengono sbattiti completamente? Carta di loro animale, impiegati gli elastici dei mascherini che gli vedessero i movimenti. Come si stanno mostrando gli destrapponi, le mascherine possono venire in cascata nelle bimbe dei delfini, per cui i dettagli ultimi per cui consigliano di tagliare via nella seconda volta usate. E di quello ci sono anche i morti, che possono essere scambiati e fiducia, che nel penetratore del mondo non vengono incerti. In questo momento di difficoltà, Zomarina non si è mai fermata, grazie al profondo affetto e passione degli addestratori e veterinari, e secondo l'augure degli animali. Oggi darà un esempio del rapporto che si è creato tra loro delfini. in cui si è creato, Ma sei, se mi hai soffrì Su ti senti mai, se tu sai che devi andare soffrì Su ti senti mai, se tu sai che devi andare soffrì Su ti senti mai, se tu sai che devi andare soffrì Ma sei, se tu sai che devi andare soffrì Ma sei, se tu sai che devi andare soffrì Ma sei, se tu sai che devi andare soffrì Ma sei, se tu sai che devi andare soffrì Ma sei, se tu sai che devi andare soffrì Ma sei, se tu sai che devi andare soffrì Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.